Penesi è una sconfitta un po' amara perché la palla bisogna metterla dentro però il risultato alla fine è questo qua, Santomero 0-1 Torrese 1. Certo, ha detto bene lei che bisogna metterla dentro però abbiamo fatto una grossa prestazione, non posso rimproverare nulla, i miei ragazzi hanno dato veramente tutto, abbiamo messo sotto la seconda forza del campionato però purtroppo bisogna accettare il verdetto del campo che ha detto 1-0 per loro, nonostante noi abbiamo dato tanto, abbiamo giocato bene, abbiamo creato tantissime occasioni da gollo però non abbiamo fatto gollo e nel calcio vince chi segna. La scelta tecnica di tenere De Luca fuori? De Rosa Noi eravamo un attimino un po' più collaudati con 4-2-3-1 quindi sono due nuovi acquisti, dobbiamo trovare ancora qualche meccanismo quindi la scelta è stata semplicemente tattica anche perché loro sapevamo che il loro cervello era il metodista Scartozzi quindi preferivo giocare con un trequartista che mi andava un attimino ad oscurare e comunque nella fase di non possesso a non far ripartire Scartozzi che ha degli ottimi piedi quindi ha degli ottimi tempi di gioco quindi è stata solo una scelta tattica non certo di demerito perché stanno facendo bene tutti quanti insomma. Difficile commentare la classifica, tante le partite da recuperare un po' per tutti, voi addirittura ne avete due da recuperare. Sì, noi non molliamo, noi giochiamo fino all'ultimo giorno, all'ultimo secondo dell'ultima partita perché questa è la nostra forza, perché questo è il nostro carattere perché questa è una squadra da elogiare nonostante è una squadra anche penalizzata per gli episodi perché la classifica non rispecchia finora il valore di questa squadra e non rispecchia quello che abbiamo fatto in questo campionato fino adesso, però la cosa è sicura che non molliamo, ce la battaglieremo fino alla fine con tutti. Allora, Ministro, una prestazione di sostanza, tre punti importantissimi, forse l'1-1 però ci stavano. Beh sì, se guardiamo tutta la partita in 90 minuti forse risulta più giusta il pareggio, credo che noi tutto sommato sapevamo di questa partita molto importante, ho detto ai ragazzi prima della partita oggi anche se non facciamo una buona prestazione ma è un importante risultato e così è stato. Il primo tempo è abbastanza ordinata la fase di non possesso palla, credo che abbiamo concesso quasi nulla, siamo riusciti a sbloccare su un tiro da fuoriare la partita, poi nel secondo tempo siamo rientrati in pochettino contratti e devo dire che il Sant'Omero ha preso un po' il sopravvento, noi non siamo riusciti mai a ripartire, cosa che chiaramente è forse uno dei gastristi migliori della mia squadra e alla fine abbiamo sofferto, fino alla fine abbiamo sofferto molto. Ha pesato anche il livello di condizione fisica e non allenarsi e quindi di conseguenza le vicissitudini del maltempo che si riflettano anche sul calcio? Sì, questo è stato determinante perché noi abbiamo una squadra che si allena abbastanza bene, si allena quattro volte a settimana e credo che fino adesso i secondi tempi nostri siano sempre migliori degli altri, invece già domenica abbiamo sofferto e oggi abbiamo sofferto ancora quindi qualcosa a livello di preparazione manca perché tutto sommato siamo stati fermi otto giorni senza allenarci mai, poi molti in palestra, molti campi non ci stavano, è stata problematica insomma. In corsa al Real Giuliano che continua? Ma guardi, noi andiamo per la nostra strada, è chiaro che è un occhio alla calta classifica, la facciamo come sembra e poi vedremo, insomma noi lotteremo fino alla fine, poi lo sconto diretto che ci sarà, vedremo un pochettino ecco io mi auguro di arrivare così allo sconto diretto che poi ce la giochiamo.